La tenacia di una madre. Non voglio che Nasli finisca come noi. Perché come siamo finiti noi? Mia figlia andrà a scuola. E la voglia di libertà. Vuoi mettermi in imbarazzo davanti a tutti? Come fai a resistere? Entrerai nella migliore università. Con la celebre protagonista di Cherry Season e Bittersweet. Non ti sopporto più, sono stufa! È una vecchia storia. Una ragazza povera si innamora follemente di un ragazzo ricco. Nasli, andiamo. Smettilo di rovinarmi la vita! Annem. Una prima assoluta. Venerdì in prima serata su Canale 5.